Verrà conferito domani alle 12 l'incarico per l'effettuazione dell'autopsia da parte dell'anatomo patologo Cristian Dovidio sul corpo di Carlo Pace, l'ex sindaco di Pescara scomparso all'alba di ieri all'ospedale Adriatico, dove era stato ricoverato in seguito alle lesioni riportate dopo essere stato investito da un'auto nel primo pomeriggio di lunedì scorso mentre attraversava la strada in via Silvio Pellico. Una volta effettuata l'autopsia che si terrà a Chieti presso l'Istituto di Medicina Legale, la salma verrà poi trasferita sempre nel pomeriggio di domani a Palazzo di Città a Pescara, dove verrà allestita la Camera Ardente. Venerdì alle 16 presso la Basilica di Sant'Antonio si svolgeranno le esequie dell'81enne ex primo cittadino del capoluogo Adriatico. Intanto gli uomini della Polizia Municipale del Maggiore Matteo Silvestris, coordinati dal PM Anna Benigni, stanno proseguendo le indagini per ricostruire quanto accaduto al momento dell'investimento di Carlo Pace. Tra voi c'era un legame profondo, avevate collaborato anche di recente quando lei si era candidato alle elezioni comunali di Pescara. Con Carlo c'era ormai un rapporto datato che andava avanti dai primi mesi in cui lui ha svolto la sua carica di sindaco della nostra città. Tutti i cittadini di Pescara ricordano quei dieci anni da parte della sindacatura di Carlo Pace come dieci anni fecondi, dieci anni importanti, dieci anni che hanno rivoluzionato la nostra città dove sono state fatte cose rivoluzionari. A me piace ricordare Carlo come una persona, un galantuomo, una persona per bene che riusciva ad affermare le sue idee, idee importanti con grande eleganza e con grande sobrietà. Non era una persona alla quale piaceva urlare, ma una persona che con contenuto faceva delle grandi cose. Ovviamente voglio abbracciare idealmente tutta la famiglia, la sua adorata famiglia, e lo voglio ancora ringraziare perché specialmente nel 2014 quando lui ha vissuto a fianco a me la mia candidatura a sindaco è stato forse il principale consigliere di quel periodo, non solo durante la campagna elettorale ma anche subito dopo. È veramente una perdita importante per la nostra città, per la nostra regione e penso che rimpiangeremo in tantissimi la sua eleganza, il suo essere persona per bene, il suo essere persona veramente affabile e sempre disponibile.